Cioè tu hai fatto un per dieci in due anni, un per dieci in due anni non è contestabile. Un video fatto su YouTube adesso resta, continua a lavorare, continua a generare da solo nuovi clienti, loro sono abituati a comprare in televisione. Da quando abbiamo cominciato a fare i video nuovi comunque hai ancora più clienti che chiedono. Eccoci qua, siamo qui con Mirko Scaglia, ciao Mirko. Ciao. Di Protetto e innanzitutto cos'è Protetto, la tua azienda? Allora noi facciamo manutenzione dei tetti senza ponteggio, quindi è un'azienda fisica, nel senso che abbiamo operai, capannoni e quant'altro, abbiamo diverse filiali, poi diversi capannoni per il nord Italia. Riparate tetti? Ripariamo tetti. Ok, quanti collaboratori hai impiegati, quanto è grosso il team per dare un'idea? Più o meno ci sono un centinaio di persone che lavorano sui tetti fra tutte le filiali e poi comunque abbiamo un bel reparto marketing, quindi 5-6 ragazzi che seguono la parte diciamo prettamente pubblicitaria, poi una rete vendita comunque con una ventina di persone. Sì, quindi è un mix strano, perché in Italia normalmente c'è l'impresa edile classica, diciamo che normalmente hai padre e figlio qualche operario e fanno lavori un po' di tutti i tipi, oppure c'è magari l'agenzia di marketing o chi lavora sul marketing. E qua invece abbiamo un po' unito tutte e due le cose. Tu sei riuscito a combinare, ad applicare l'online marketing e cose che di solito le persone dicono sono robe da ragazzini o cose online o business digitali, a un'azienda seria, strutturata, visibile, di grande reputazione oltretutto perché lavorate molto bene, quindi un'azienda fisica unita ai funnel, a tutto quello che di solito le persone pensano. Devo dire che io comunque vengo dal mondo edile e ho sempre fatto quello e per cui la spinta grande che alla fine è stata data negli ultimi tre anni, quattro, è stata data proprio dall'online, perché prima noi facevamo pubblicità magari nelle fiere o… In modo tradizionale diciamo. Sì, sì. E l'online è stata la cosa che ha fatto esplodere poi tutto quanto il nostro mercato, perché chiaramente poi noi facciamo edilizia tradizionale, però è innovativa rispetto a quello che è la normalità e quindi poi andare a spiegarlo alle persone, chiaramente con la pubblicità tradizionale è difficile. Mentre con l'online è fantastico perché di fatto basta solo fare un funnel o un video fatto bene e hai subito la possibilità di andare direttamente sul telefonino di qualcuno e fargli vedere esattamente… Certo, per tutta una serie di materiale, quindi trovare clienti, profilarli online e poi andare ad aggiustare i tetti, quindi possiamo vedere che le due cose coincidono. Allora, qual è ad oggi il volume d'affari dell'azienda Protetto? Quest'anno fra tutte le filiali più o meno siamo poco meno di 15 milioni di euro. Poco meno di 15 milioni di euro. Con quale margine si può dire? Sì, margine poi dipende perché non tutte le città, soprattutto in Italia, chiaramente se vado a lavorare rispetto all'indirizia tradizionale i margini sono molto più alti. Molto più alti. Ok, però io so che tu non hai sempre fatto 15 milioni di euro. No, 3-4 anni fa eravamo intorno al milione, per cui l'esplosione è stata proprio tutta la parte funnel, tutta la parte online. Cioè andare online è stato quello che ha fatto la differenza, perché chiaramente se tu hai un'azienda fisica in Italia, cioè normalmente lavori sul tuo paese, al massimo lavori sulla tua città. Quindi il fatto poi di riuscire ad andare online ti permette poi di magari aver lavori a Milano, Genova, Firenze, Torino. Dopo c'è anche da dire che in Italia andare online vuol dire faccio una pagina su Facebook. Sì, c'è tutto quel problema lì che online vuol dire tutto niente. Quindi secondo me la cosa importante è stata comunque far formazione con voi e quello mi ha fatto capire che se deve esserci un ecosistema veramente complesso. Ecco, parliamo di questo, perché io mi ricordo, adesso tu fai 15 milioni, peraltro siete in una traiettoria di crescita quasi definibile, imbarazzante. Tu sei venuto, hai preso dei corsi, eri all'evento di Riccione eccetera e poi hai deciso di venire al Mastermind. Il primo Mastermind del 2020 e tu all'epoca facevi un milione e mezzo. Adesso mi dici che ne fai 15. Cos'è successo? Spiegaci un attimo di questa esplosione. Secondo me le cose che ho imparato con i corsi e poi venendo anche al Mastermind fondamentalmente sono state due. Uno è stato il fatto comunque di creare un ecosistema di marketing e quindi non di andare a fare la sponsorizzata su Facebook, ma di avere una serie di cose. Adesso noi siamo su praticamente tutti i social con poi comunque tutti i sistemi di retargeting, email marketing e quant'altro. Poi tutta questa cosa collegata a una rete vendita che funziona chiaramente crea un sistema. Meccanismo ben oliato. Esatto. Quello è stato sicuramente la cosa che ha dato lo sprint. L'altro aspetto è che comunque se hai un'azienda fisica la crescita comunque mangia un sacco di liquidità, richiede un sacco di investimenti. In pratica tu mi hai spiegato come potevo fare a crescere senza poi dover andare a leva, senza dover andare in banca, senza dover fare debiti. Non hai leve, sei cresciuto in liquidità. Questo è un fatto importante perché nell'edilizia, nei business fisici, anche i ristoranti, la prima cosa che ti dico è che non puoi crescere in liquidità, vai a leva, debito, eccetera. E lì il sistema l'abbiamo trovato poi insieme. Insomma, da noi veramente le persone vanno a lavorare, servono i furgoni, servono le attrezzature. E a vostro è un lavoro vero, non come il mio, ma confermo. No, no. Quello è il lavoro nel vero senso della parola. Secondo me è stata la leva che poi ha permesso a tutto poi di ingranare bene. Perché poi il difetto dell'online è che chiaramente è facile vendere le cremine su tutta Italia o su tutto il mondo. Però se devi andare a fare dei tetti, devi avere le persone che abitano nelle varie province che ci lavorano e quindi avere una struttura che sia più... A livello aziendale la gestione, perché poi nel mastermind si parla di solito molto poco di marketing, perché poi al vostro livello avete più o meno risolto, poi si può sempre aggiustare il prezzo, fare il funnel meglio, la comunicazione, eccetera, è importantissimo. Però le tematiche che escono poi sono altre, per esempio l'organizzazione, le procedure, la gestione dei dipendenti. Le persone. Perché comunque anche una crescita così, la prima cosa è che adesso protetto non sono più solo io. Alla fine ci sono tante persone che ci credono. Ma che eravate due anni fa? Per cui è un milione e mezzo. Penso una ventina più o meno. Sì, però poi anche lì è proprio il livello delle persone che tu hai vicino, perché mi sono reso conto che in realtà sono protetto a tante persone che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di fare, tante teste pensanti. Mentre prima magari, per assurdo, a me pesava di più prima che adesso. È tanto importante che ti metti vicino e avere poi un sistema per reclutare le persone. Cioè in Italia, a pensare di assumere 20 operai, 30 operai, 50 operai, 10 venditori, 5 venditori. Non è facile, tutt'altro che facile. Quindi anche lì ci vuole il metodo e anche lì lo viene risolto alla fine con online. L'online in realtà ti aiuta non solo a trovare i clienti, ma poi anche a trovare, per esempio da me, il capo filiale o le persone che comunque devono venire a lavorare, anche i venditori. Certo. Una persona si potrebbe chiedere perché un imprenditore nel campo fisico ha deciso di ripartecipare adesso al terzo mastermind che si è appena concluso. Perché la percezione che alcuni hanno dal di fuori è che o sono tutti ragazzini spiantati con la Lamborghini con tutto il rispetto, ma non ci sono business veri. Poi questa definizione piuttosto che se uno fa già un'obiezione anche legittima, tu fai 15 milioni con un ottimo margine, cosa ci fai nel mastermind di Big Luca? Allora in realtà credo che sia l'imprenditore che non ha voglia di innovare, che si limita a pensare al fatto che l'online sia per i ragazzini con Lamborghini. E in realtà devi studiare, fare i mastermind, fare i corsi. È lì che impari cosa devi fare. L'imprenditore comunque deve saperne di fiscalità, deve saperne magari anche proprio di gestione del personale, deve saperne di contratti di affitto. Questi sono discorsi che uscivano. Il confronto con altri imprenditori del mastermind, altre aziende, altre realtà, è una cosa che ti ha aiutato? Sì perché poi comunque credo che i problemi siano abbastanza comuni e poi questa cosa l'abbiamo vista anche insieme nei vari mastermind. Magari ci sono persone diverse ma poi le problematiche fondamentalmente sono quelle. È importante il fatto comunque di aver contatti con altre persone e magari a tante volte anche veramente due frasi, vorrei provare questo, l'ho già fatto io, non funziona, fai così. Cioè quella cosa di magari ti fa risparmiare due anni di prove per niente. Questo è importante perché alcune persone anche con i corsi dicono, secondo me è veramente stupido, dicono cosa potrò mai imparare con 1000 euro, spendendo 10.000 euro, 20.000 euro, cosa mi puoi dire per quella cifra? Cioè su me è assurdo perché una persona con un'azienda come la tua, un consiglio dato, ma non da me, da un altro magari imprenditore che magari fa più o meno il tuo stesso fatturato in settori diversi e c'era il mastermind, vi potete confrontare, tu fai risparmiare a lui un milione di euro, che dice guarda non fare quella cavolata, l'ho già fatta io, la sa sta e il contrario. Credo che l'altro limite dell'online è che veramente l'imprenditore fisico non ha neanche la preparazione per riuscire a affrontarlo, perché come dicevamo ieri, l'online ti obbliga ad avere dei numeri, a ragionare sui numeri. Io so quanto spende mediamente un cliente, quanto costa un cliente medio, so magari su Facebook quell'euro di pubblicità, quanto porta di fatturato, sui vari social quello succede e quindi hai numeri che devono essere chiariti. Il problema in Italia è che se tu parli magari con persone che hanno l'azienda, magari anche che fattura milioni, tante volte chiedi quanto hai fatturato l'anno scorso, non lo sanno. Sono bravi magari a fare i tetti, ma non è un'azienda che fanno i tetti. Quindi devi mettere insieme quello che fai con la matematica e con l'online. Non è facile, questo sì, ma secondo me non è neanche difficile. È chiaro che devi andare a qualcuno che te lo spieghi e lo devi fare e devi avere anche la voglia di farlo. Il problema credo che sia quello lì. Quello che manca è che forse in Italia è talmente facile comunque fare impresa anche con poco. Perché a volte io lo vedo i muratori classici online, mi scrivono Ma se tu hai bisogno di farti pubblicità per lavorare, vuol dire che non lavorate bene. In Italia al contrario. Noi non facciamo pubblicità e siamo pieni di lavoro. Che magari è vero, sei tre persone che lavorano, se ne hai più di cento le cose sono un po' diverse. Veramente c'è quasi la paura di dire se faccio pubblicità è perché ho bisogno di trovare clienti. Io sei un rettaggio italiano. E quindi non capisci che invece è solito. Ma è così, la pubblicità e il massimo fanno per avere sempre più clienti, ma tu non hai una piccola realtà con tre collaboratori. Tu adesso ti stai espandendo a macchia d'olio in modo replicabile in varie regioni e quindi porti la tua azienda, il tuo know-how, il tuo brand, lo stai espandendo a macchia d'olio. Questa cosa non si fa per caso e non si fa senza dell'ottimo marketing e senza una conoscenza matematico strategica imparata, acquisita, che continui comunque ad aumentare e non si fa niente se no. No, assolutamente. Alla fine non è difficile, credo solo che bisogna avere voglia di farlo. Tu hai detto voglia, io ti volevo chiedere, secondo me ci vuole anche l'umiltà. Perché tu quanti anni hai? 43 43, non stai barando, ho visto che guardi la moglie. 43, io ne ho 31 per esempio, una delle obiezioni, chiaramente non è la tua, però c'è anche chi la fa, perché è un imprenditore con un'azienda fisica vera, quindi non un guru, questi discorsi qua, 43 anni, va a Dubai a imparare la strategia, o a migliorarla ovviamente, la strategia da un guru 31enne. Io passo in un'azienda che su certe cose mi possono insegnare e ne hanno 20 o 21. No, non credo che l'età dica, cioè io ho il mio top venditore che ha 72 anni e sicuramente è più bravo a vendere di me. L'età non conta perché poi comunque è normale che ho a che fare con settori che sono completamente diversi, perché pomeriggio lavoriamo sul copy, un altro giorno faccio i video per YouTube e il giorno dopo su un day che studiamo se è meglio usare una cazzuola o magari un altro attrezzo. Cioè un aumento, un continuo studio in tutti i settori, marketing, pubblicità, copy, parte tecnica. Ti devi appoggiare a persone che hanno, per dire, cioè lavora da me, è solo un ragazzo che ha sempre lavorato su corda, si arrampicava sulle montagne e quindi lui è un esperto dell'arrampicata. Chiaro che è più giovane di me, ma sicuramente se parliamo di funi, di arrampicata e di come fare gli ancoraggi, sicuramente ne sa più di me. Ti devi appoggiare a persone che ne sanno più di te, indubbiamente sulle strategie di marketing ne sei più tu di me, su questo nessuno ha dubbi e quindi non vedo il perché non venire ad imparare. Fermo restando che comunque al Mastermind in realtà eravamo penso 15 persone, 20, cioè è normale che tu hai 15-20 persone, tutti italiani fra l'altro, quindi sono 20 persone che comunque hanno aziende o comunque hanno avuto successo in quello che stanno facendo. Il fatto comunque di poterti confrontare con persone che hanno successo, poi in realtà che abbiano 20 anni o che ne abbiano 70, non cambia molto. Se tu dovessi dare un consiglio agli imprenditori, stavo per dire attempati come te, ma questo sarebbe più grande, della tua età, aziende fisiche, serie, vere, problemi di dipendenti, e se tu dovessi quindi parlare all'imprenditore che eri due anni fa o tre anni fa, cioè che consiglio taresti, diresti loro di formarsi, dal cuore, quando guarderanno questo video, l'imprenditore del tuo calibro, cosa vuole comunicare a queste persone? Allora, io credo che la prima cosa in un'azienda comunque sono i clienti. Poi noi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, però se quel prodotto che vendi non ha di là qualcuno che lo compra, poi possiamo migliorare tutto quello che vuoi, però è la base ai clienti. Dei riuscire ad arrivare nella testa, nel telefono, nella casa di più clienti possibili, è la base su cui puoi migliorare tutto quello che vuoi. Quando avevo tre clienti, era un discorso, quando ne hai cento, chiaramente puoi sbagliare, migliorare tutto quello che vuoi, ma di là hai cento persone che vogliono comprare qualcosa. Il marketing, secondo me, è la prima cosa su cui bisogna lavorare. Secondo me non è corretto che l'imprenditore stia magari in fabbrica, in cantiere, tutto il giorno a controllare che le cose funzionino bene, quando però poi in realtà i clienti speriamo che telefonino. Quindi il tempo dell'imprenditore è giusto che sia poi su varie cose, perché poi soprattutto in Italia sono un milione di cose a cui dar vado, però la prima cosa è come trovo i clienti. Cioè la prima capacità che deve avere l'imprenditore è sapere dove trovare i clienti, come trovarli e quindi il fatto di crearne un ecosistema che ti porti sempre clienti nuovi. Io credo la settimana scorsa abbiamo avuto 400 richieste di preventivo in una settimana. In una settimana? In una settimana. Di là è una massa di persone che veramente vuole fare il lavoro con protetto. Cioè questa massa non arriva da sola e non si autogestisce, quindi c'è bisogno di un'organizzazione pesante. No, poi, e questo non lo pensavo, perché io sono sempre stato molto contrario al passaparola. Cioè io dopo è scontato che, ma noi italiani siamo bravi, lavoriamo bene, quindi è abbastanza normale che se tu lavori bene, poi il cliente ti fa chiamare dalla figlia da vicino di casa. Quando mi dicevano, sono entrati i tre clienti col passaparola, cioè persone che hanno chiamato in ufficio che non sappiamo perché, oppure amico, la sento come una cosa piovuta dal cielo o comunque come una conseguenza del fatto di lavorare bene, però non la vedo come ho lavorato bene sul marketing. Mentre adesso, però arrivati adesso con numeri, diciamo, importanti, adesso è già un po' di mesi che comunque abbiamo 30-40 richieste di preventivo a settimana che arrivano dal passaparola. Sì, probabilmente qualcuno è anche il fratello, lo zio, lo zio, lo zio, lo zio. Ma è generato dal marketing. È generato dal marketing e quindi questa cosa subito non la capivo e poi soprattutto negli ultimi giorni ci ho ragionato probabilmente anche il fatto di avere tanti furgoni che girano con scritto protetto, avere poi tanti video che girano su YouTube. Sì, perché adesso tu ti sei focalizzato molto su azioni di branding, stai facendo dei video molto belli, quindi sei molto battente sui social con video di qualità, anche lì la differenza. Sì, anche lì sì. Io credo comunque negli anni 70, negli anni 80 le aziende funzionavano bene, erano in televisione e si facevano grandi numeri. Qualsiasi azienda, a partire dalla pasta fino ad arrivare a dentifricio, quindi sono tutte partite e poi cresciute con la televisione. Alla fine la televisione di adesso credo che sia YouTube o che sia comunque tutti i vari social. credo che sia fondamentale da qua in avanti ragionare sul fatto che tutte le aziende fisiche devono arrivare lì e quindi chi ci arriva prima è facilitato, chi ci arriva dopo farà più fatica, però comunque il futuro è quello lì. Quindi non ho mai avuto il pensiero che non si potesse far lavorare l'azienda fisica con internet. Dopo che sia stato difficile, perché soprattutto all'inizio ci avevamo messo tanti soldi e magari le cose non funzionavano, oppure comunque abbiamo perso un sacco di tempo, le cose non funzionavano. E avete fatto tante prove ovviamente, sbagliate, poi è normale. Su più prodotti ma anche poi su come proprio andare online, perché poi le persone vogliono magari cose più veloci, a volte magari vogliono anche poter pagare subito. E mentre magari quando vieni da un mondo dove i pagamenti sono a 30, 60, 90, ti sbilanciano il fatto di dover comportarti diversamente sui ragionamenti. Però io credo che comunque chi ha un'azienda fisica deve andare online. Il problema cos'è? Che normalmente si va online affidandosi ai ragazzini che hanno cominciato ieri. Che non sono imprenditori e non hanno un'azienda, questo è il problema. Che applicano un modello a un imprenditore che ha un'azienda che magari è quello di un influencer ma non c'entra niente. No ma io a volte lo sento, perché altre persone mi dicono ah sì ho provato anche io a fare pubblicità, un mese su lì 3, 5, 10 mila euro li ho persi e basta. E anche lì vedi, qualche mio amico imprenditore mi ha detto ma far quei video devi metterci la faccia, poi comunque non costano un euro perché alla fine è come fare un film sui miei video. Però in realtà quella cosa lì, soprattutto online, fa sì che in realtà poi c'è il passaparola dell'online e secondo me questa cosa qua andando avanti con gli anni sarà sempre di più perché comunque un video fatto su YouTube adesso resta quindi poi continuo a lavorare, continuo a generare da solo nuovi clienti o almeno nuovi preventivi da fare e poi da lì insomma si va avanti. Per cui secondo me no, chi ha un'azienda fisica deve concentrarsi sul marketing e secondo me il marketing online adesso dà ancora la possibilità di scalare come abbiamo fatto noi perché poi adesso è chiaro io ho dei numeri, magari arriviamo a andare in televisione e le cose vanno avanti, però dieci anni fa, quindici anni fa se uno metteva in piedi l'azienda da zero e voleva andare in televisione, cioè chiaramente a livello economico era molto molto difficile mentre andare online ti dà ancora la possibilità di poter fare zero o cento e dopo magari ragionare anche su altre cose però adesso è il momento buono dove secondo me è ancora fattibile veramente poter crescere da zero. Anche perché nel tuo settore pochissimi imprenditori capiscono che devono fare marketing online, offline cioè quando tu dici ai magari dei colleghi che ti dicono ah ma i video su YouTube effettivamente sono un abominio nella tua industria cioè loro pensano che la tua industria, la tua azienda non c'entri niente con perché loro capiscono magari solo i tetti, mentre invece è perfettamente ragione. I 400 clienti che hanno chiesto un preventivo. Andiamo a vedere certo. Cioè alla fine è il mercato che comanda. Il mercato comanda, i risultati non sono contestabili, cioè tu hai fatto un per dieci in due anni un per dieci in due anni non è contestabile, non c'è da parlare forse magari e non vedo l'ora di vedere, tra un paio di anni. Ma sì poi adesso è anche questo che magari lavori ci metti tanto tempo perché poi i risultati non è che sono arrivati il primo mese. Ah non c'è dubbio. Però poi una volta che chiaramente hai l'ecosistema che funziona è facile da scalare le cose. C'è un effetto composto un po' al contrario, all'inizio fai fatica, fatica, fatica e poi. Questo l'ho visto ma lo stiamo vedendo tutti i giorni. Se tu non sai poi l'anno prossimo se questi arriveranno ancora clienti o meno. Perché non hai un sistema replicabile certo. Invece qua siamo veramente la matematica. Poi il prodotto chiaramente è molto innovativo, è fantastico per cui il cliente ha capito che il sistema è assolutamente efficace, innovativo, per cui è interessante per il mercato ma devi arrivare a spiegarglielo. Poi a livello di qualità prezzo siete imbattibili. Sì sì sì. Ma perché da noi, cioè il mio è stato proprio cambiare la filosofia che non mi piaceva del fatto che comunque se hai due tegore rotte il tetto va rifatto. Cioè quella cosa lì a me non piace. Per cui abbiamo lavorato tanto su far capire alle persone che se hai la macchina rotta non sempre vai a concessionare o compri nuova. Puoi anche andare al meccanico e sistemarla. A parte questo che poi credo ogni azienda ha il suo prodotto che funziona bene per se no non ha senso, è proprio il fatto di poter arrivare a casa delle persone e spiegarglielo. Quello è tanta roba. E alla fine ci arrivi solo, ci arrivi con i social, ci arrivi costruendola bene. E ci vuole strategia, quello sì. Ci vuole strategia. Sì sì. E la strategia, se sono un sistema, bisogna mettersi lì, studiarla, impararla. Voi quando avete pensato di cominciare a fare dei video per i social media e quindi mostrare quello che fate, promuovervi attraverso? Sì allora inizialmente noi facevamo dei video con i cartoni animati. Ok. Ha funzionato benissimo e in realtà funziona ancora, ci sono ancora. Poi però notavo dall'altra parte questa poca fiducia nei social che hanno gli imprenditori, un po' ce l'hanno anche i clienti. E il cliente mio medio ha più di 60 anni. Per cui arrivare dal cliente col video dei cartoni animati e comunque il lavoro al tetto è un lavoro che non sono 20 euro. Avevamo cercato un sistema per dar più fiducia al cliente. Chiaro che se il cliente vede una faccia, collega una persona e comunque vede l'imprenditore che si prende la responsabilità di fare il lavoro fatto bene, questa cosa qua avevamo provato ma avevamo visto che ha sicuramente migliorato la fiducia che il cliente ha poi nell'azienda. I primi video li avevamo fatti un po' per scarsa, un po' per prova. Eccoci signori, sono Mirko di Protetto, noi facciamo la manutenzione dei tetti senza ponteggio. Proprio col telefonino o con poco di più, audio pessimo e quant'altro. Questo sì, allora crea fiducia nel cliente perché l'imprenditore ci mette la faccia, però dall'altro lato diciamo che il cliente secondo me percepiva il fatto che comunque se fai il video col telefonino, non dico che sei uno scappato di casa, ma quasi. E quindi c'era un po' di discrepanza su sta cosa. Qual è stato lo switch, cioè il cambiamento da quando facevi video amatoriali a poi per averli professionali? Cioè che cosa è successo? Qual è stato il cambiamento? Allora da quando li facevamo col telefonino a quando ci siamo fidati a voi? Allora i cambiamenti sono stati fondamentalmente due. Uno, la social domination ti fa vedere dappertutto. Quella cosa da soli non sapevamo farla perché noi possiamo fare anche un video, metterlo sui social, ma è chiaro che poi è chi, io non sono espertissimo, però a chi poi ci mette le mani e sa come taggarlo e come farlo andare giusto. E poi l'altro problema, che non è un problema da poco, che io non sono un attore di Hollywood, per cui in realtà poi a me risultava anche un po' difficile poter fare dei video, diciamo da solo, senza saper niente. Chiaramente hai un copy serio, per cui ci sono tutti i vari punti e quant'altro, per cui ti dà anche il modo, cioè di fare una cosa, perché a volte parti, fai un discorso e in realtà poi non sai dove arrivi lì o comunque è tutta una cozzaglia di nozioni e poi chi c'è dall'altra parte fa anche fatica a capire cosa stai dicendo. Secondo me il fatto di lavorare comunque con persone che sanno cosa stanno facendo ti dà modo a risparmiare un sacco di tempo, perché prima veramente per fare un video uguale di 15 secondi ci prendevamo un poveriggio o due. Adesso penso che l'ultimo giro aveva fatto 11 video lunghi in una giornata, per cui tempo risparmiato tantissimo. Video di qualità migliore il cliente lo recepisce, che insomma sei un'azienda seria che sta lavorando bene, soprattutto per me correggere magari un po' di errori, che insomma sicuramente facevo e che ancora faccio, ma sto migliorando, ti dà modo di poter fare molto meglio. È stata la svolta e io sono convinto che, ma questo già lo vediamo dai numeri, cioè da quando abbiamo cominciato a fare i video nuovi, comunque hai ancora più clienti che chiedono e soprattutto il costo per dire che si è abbassato e quant'altro. Le persone, soprattutto persone che devono spendere cifre importanti e di età avanzata, devono potersi fidare e il fatto comunque di fare un video che abbia un senso, costruito bene, che alla fine sembra televisione, perché loro poi sono abituati a quello, loro sono abituati a comprare in televisione e quindi fare questo sicuramente ha alzato un sacco la qualità anche poi dei lead che entrano, perché poi sappiamo anche noi che su Facebook si possono trovare lead a centesimi come lead a centinaia di euro, dipende da poi che cliente ti serve. È chiaro che un cliente che ha visto dei video dove gli ha spiegato bene cosa facciamo, sa più o meno quanto spenderà, ma soprattutto ha chiaro il sistema di lavoro, cioè quella cosa lì facilita molto la rete vendita e soprattutto non ti fa perdere tempo con persone che magari noi non facciamo tetti nuovi, se mi chiama uno e mi dice devo fare il tetto nuovo, mandi là il venditore, il venditore non può travendergli niente, perché non è quello che facciamo noi. Per cui no, sicuramente i video già adesso è la svolta, ma sicuramente andando avanti ancora di più. Ancora di più. Ancora di più, nella maniera più assoluta. Grazie Mirko Scagli, è stato un piacere. Grazie a te. Alla prossima. Complimenti per la casa. Complimenti per la crescita, ci rivediamo. Grazie. Al prossimo 10 per. Ok, speriamo, vediamo.